Chiari amici, siamo pronti per andare online con il nostro nuovo format Due Cuori in Tavola e con me Anna Cresulia. Un'esperienza meravigliosa che spero i nostri amici vorranno condividere con noi. Sarà qualcosa di molto diverso, di nuovo, di divertente, dove ci vedrete alle prese in ogni episodio con una diversa coppia di sposi alla quale prepareremo una sorpresa, una sorpresa che consisterà in un allestimento, un momento dedicato a loro, una cena a due con l'aiuto naturalmente dello chef Luciano Bigliotti, con cui abbiamo studiato il menù. E voglio dire che qua abbiamo avuto l'imbarazzo della scelta degli angoli più belli in cui ambientare questa sorpresa che a me piace chiamare proprio una sorpresa e Due Cuori in Tavola è il titolo di questa nuova serie e nasce proprio dall'idea di raccontare due cuori che si incontrano ad una tavola. Naturalmente sono tutte coppie in procinto di sposarsi, noi siamo un po' Due Cuori in Tavola. Assolutamente sì. Io più cuore, tutto. Io più tavola, esatto. Ci compensiamo in maniera perfetta. Bene, quindi direi che non dobbiamo far altro che dare appuntamento a domenica prossima alle 21 sul canale YouTube Angelo Garini Immagina. Seguiteci, iscrivetevi e cliccate la campanella per non perdere gli aggiornamenti e le notifiche quando saranno online i nuovi episodi. Vi aspettiamo allora sul web. Numerosissimi. Grazie a tutti.